Sballati o sballati di sport, una duplice interpretazione nel titolo per la giornata di domani che dalle 16 alle 20 si farà al Parco del Castello grazie a Comune, SERT, Cooperative Ideali e Rugby Experience School in occasione della giornata mondiale contro le droghe. La Rugby Experience School sarà presente con i suoi tesserati e volontari per promuovere il gioco del rugby come aggregazione per i giovani. Il SERT sarà a disposizione con un gazebo informativo. C'è stata una collaborazione sin dal primo momento con il SERT, la dottoressa Spaziani, la ASL e con Rugby Experience per dare una risposta anche al nostro territorio. C'era la necessità di dimostrare quanto un'amministrazione comunale tenesse a uno dei problemi socialmente più impattanti. Sappiamo quali sono gli indici di disagio in particolar modo giovanile, sono chiaramente l'aumento dell'uso di droghe, di alcol, anche di psicofarmaci. Dobbiamo aggredire questo tipo di problematiche e l'amministrazione non può tirarsi fuori da una sfida di questo tipo. I dati non sono affatto positivi. Quelli diramati dalla dottoressa Daniela Spaziani, responsabile del SERT e psichiatra, dilaga il gioco d'azzardo e si diffondono alcol e droga sempre più nei minori. Ma in aumento ci sono anche le dipendenze tecnologiche da smartphone, videogiochi o internet. Nel 2017 700 le persone in carico al SERT, 251 per alcol, 403 per droga, 46 per il gioco. In aumento i minori quasi tutti incontrati al CPA del minorile. Per abuso di sostanze il più giovane ha avuto 16 anni, per la cannabis il più anziano attorno ai 58 anni. La fascia più colpita rimane quella superiore ai 39 anni. Ma la fascia di età dai 16 ai 24 è quella più meritevole di attenzione oggi, perché hanno chiesto aiuto al SERT a 24 nuovi utenti. Si usano anche molti psicofarmaci comprati direttamente da internet, ha detto la dottoressa. Per l'alcol, dei 251 in carico, 77 sono i nuovi utenti. Il più giovane ha 17 anni, il più anziano 83. Dai 50 ai 59 anni la fascia più colpita. Per il gioco patologico 46 persone in carico, 16 nuovi utenti. Dai 30 ai 34 la fascia più colpita, ma in tanti ancora non si rivolgono al SERT. Servirebbero più campagne informative. Il fenomeno però merita attenzione. Sono sempre più uomini, meno le donne, ma anche questi aumentano. Il centro di urno, ha ricordato la dottoressa Zimerici, aveva richiesto di aiuto anche per genitori. Per dipendenza da internet dei figli, recupera e fa riabilitazione, reinserisce anche nel lavoro. Da anni ormai si occupa di adolescenti. Sono stati trattati 136 utenti qui. Ragazzi si dà questo invito. Sballati di sport piuttosto che di sostanze o di attività illecite che purtroppo dilagano nel nostro territorio. Non soltanto gli abusi di alcol, non soltanto il consumo di sostanze già nei minorenni, perché nell'anno 2017 abbiamo visto un aumento di ragazzi minori venire al SERT, anche per le cosiddette droghe leggere, ma soprattutto noi pensiamo che sia un pericolo da tenere sotto controllo il gioco d'azzardo e le nuove dipendenze tecnologiche.